Cosb lavora in Albania dal 2018 dove sta realizzando un progetto di tutela e conservazione dell'ambiente nel sud del paese. In particolare lavoriamo su tre parti nazionali dove realizziamo in sinergia con le comunità locali, gli enti parco e le organizzazioni della società civile degli interventi di sviluppo economico e tutela dell'ambiente. Oltre a questo stiamo promuovendo una campagna di sensibilizzazione sui temi ambientali che partendo dagli studenti delle scuole e degli istituti tecnici e professionali passi poi a tutta la comunità albanese nel suo complesso. In generale Cosb in Albania sta attuando un programma finalizzato da delle progettazioni sui temi dello sviluppo economico, sviluppo rurale, turismo sostenibile e inclusione sociale. A fronte di una presenza decennale nei Balcani, in particolare in Macedonia e in Montenegro, la presenza di Cosb in Albania è quindi strategica perché consente di guardare delle progettazioni che vengono dall'Unione Europea e dalla cooperazione italiana mirate allo sviluppo dell'area balcanica nel suo complesso.